Ieri 12 giugno la Russia ha celebrato la sua festa nazionale. In tutti gli angoli del vasto paese si sono tenute feste popolari, concerti, gare sportive e sagre. Regioni con caratteristiche e tradizioni molto diverse hanno condiviso il sentimento comune di appartenenza alla nazione russa. Nella sala di San Giorgio del Cremlino il presidente Vladimir Putin ha definito la Russia un paese con una storia lunga e gloriosa, con una ricca cultura e con un popolo eroico sia nel lavoro che nella battaglia. Anche in Africa la ricorrenza ha avuto seguito. In Niger centinaia di motociclisti hanno festeggiato sulle strade della capitale, Niaméi, molti di loro avvolti nelle bandiere del Niger e della Russia. Niaméi, molti di loro!